Mimmi, eh, eh, questo spadio, questo spadio, eh, 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 eccola, eccola, si è svegliata, la attacca, la attacca tutto, attaccala Mimmi, eh, 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 e non lo prendi, non lo prendi Mimmi, non lo prendi, davvero ci sono, eh, ci sono, allora ciao a tutte ragazze, questo è un nuovo video e vi faccio vedere appunto Mimmi in questo video perché me l'avete richiesto tantissimo, era da tanto che non facevo un video a Mimmi, solo che adesso c'ha sonno e sta qui nel suo primo lettino all'ombra perché fa un pochetto caldo e vi volevo far vedere un attimo la sua postazione, come l'ho sistemata, allora il suo vecchissimo vaso, eh, penso ormai l'ho conosciato un pochetto tutte, eh, ci avevo messo appunto questo tappetino sopra in modo che faceva effetto amaca quando ci andava sopra, questo è il solito tavolinetto bianco, qui ho acquistato questa casetta di cartone, in teoria era per Mimmi per farla giocare dentro perché praticamente è furata, vedete? solo che poi è diventata la casetta di Mimmi, tant'è che ci ho messo dentro la copertina rossa e questa l'ho presa su Zoplus e il prezzo se non sbaglio era intorno ai 4-5 euro o una cosa del genere, mentre il resto è rimasto tutto uguale, quindi qua c'è la casetta, qui c'è il tappetino, però mi pare che io non vi ho mai mostrato il nuovo lettino di Mimmi, che in teoria ce l'ha da un anno, però mi pare che in nessun video ve l'ho fatto vedere, praticamente è molto molto alto, quindi quando lei c'entra dentro praticamente scompare, viene inglobata dal lettino, e adesso ve lo tiro fuori per farvelo vedere, vedete? Tutto imbottito, tutto peluscioso e questo l'inverno è veramente una favola perché lei lo massaggia tantissimo, sta veramente bene qua dentro, solo che penso che tra un paio di settimane lo metterò via perché è arrivata la primavera ed è un po' troppo caldo, poi qui c'è sta la copertina che in teoria la uso come tenda quando fa troppo freddo, quindi praticamente gliela metto così e gliela vado a rimboccare proprio dentro la casetta in modo che non entra vento, e nulla, quindi questo è tutto, non ci sono stati tantissimi cambiamenti per tutti quelli che si sono preoccupati per Mimmi perché non la vedono più, Mimmi sta bene, solo che adesso ha un pochetto sonno e non vuole giocare. C'è solo un modo per far alzare, Mimmi, notate le ciabattine in pandavo con il gatto, e invece le ciabattine? Prima, Mimmi, guarda un pochino qui cosa c'è, sono i cuoricini che ti piacciono, pure questi li ho presi da Zooplus, anzi in realtà è stato un regalo da Zooplus, vediamo se si vedono, sono proprio dei cuoricini, vedete? Eh, Mimmi, che se li sta finendo tutti, te l'è rimasto uno? Finiti Mimmi, sono finiti, sono finiti, non ci sono più, no no Mimmi, che cazzo fai? Che cazzo fai? Eh, che fai? Eh, Mimmi, Mimmi Eh, Mimmi, sulla palma Sto facendo un video a Mimmi Sto facendo un video a Mimmi Eh, che mi lecca la manina Lecca la manina Eh, e poi, ripuliamo la testolina Eh, va bene, basta Tiu-tiu